Massimiliano Gilardi di G2 Partners, di cosa si occupa la sua azienda? Noi siamo una società di consulenza e un gruppo di business angels che aiutano le piccole e medie imprese, in particolare le start-up, a avviare l'attività oppure a rilanciare l'attività nel caso di imprese già avviate. Interveniamo con due modalità, come società di consulenza in qualità di rapporto commerciale oppure come gruppo di business angels investendo nelle società che particolarmente ci interessano. Quale prodotto, quale tipo di servizio presentate qui a TBIZ 2012? Noi stiamo presentando un po' tutta la nostra attività che si declina tipicamente di società di consulenza e o di investimento, che si declina nelle attività tipiche che noi presidiamo che sono l'area finanza, quindi business planning e riparimento di fonti di finanza per le imprese e anche l'area marketing, tecnologie e in particolare marketing digitale. Quali sono le soluzioni secondo me in questo momento più vantaggiose per le aziende che sappiamo vivono un momento di difficoltà e di difficile congiuntura economica? Ma noi riteniamo che in questo momento bisogna essere un po' dei partners delle aziende che siano start-up o siano anche società già avviate, hanno bisogno di essere valutate e aiutate da imprenditori che un po' si assomigliano, imprenditori per imprenditori, quindi noi spesso proponiamo delle soluzioni che possono essere una partnership con le aziende che seguiamo in cui in parte agiamo come società di consulenza, in parte però possiamo intervenire come investitori, come business angels.